Occupante San Basilio per Dinamo Press. Sono occupanti San Basilio, stiamo manifestando perché vogliamo i nostri diritti, una dignità, quindi una casa che non abbiamo ovviamente. Non pensiamo di star far nulla di male, ovviamente è una messenza pacifica dove chiediamo al sindaco di Roma o a chi di diritto insieme a lui e di darci comunque una casa di cui abbiamo bisogno, ci siamo presentati con dei bambini senza mangiare e non c'è per dignità ovviamente. Per quanto mi riguarda la mia storia, ovviamente avevo comprato una casa con il mutuo, pagavo a 600 euro al mese, ho perso il lavoro io e mio marito perché la banca si è ritirata giustamente, però ovviamente ci ha chiesto altri soldi, si è chiesto anche per accogli un mila euro oltre che se la sono già venduta all'anima. Io non li ho quindi non li posso dare e torno a occupare per gettare i miei bambini. Grazie.